Perché venire in un mercatino piccolo come questo anziché andare in un supermercato? Primo perché nei supermercati rubano i bambini, scippano le vecchiette e in più fanno... No vabbè, no scherzo, sono contro... logicamente no. Secondo me penso semplicemente per un fatto di scelta di qualità e di scelta di stile. Allora, noi lavoriamo con pochissime cose in circa due metri quadrati, cerchiamo di avere un'esposizione di circa, ad occhio e croce, una sessantina di formaggi ma quelli che girano durante tutto il mese sono più o meno su 300 qualità differenti di formaggi artigianali, documentati, dop, di malga, di fossa, francesi, inglesi, della svizzera francese insomma cerchiamo di avere un pochino di tutto, di tutto, di tutto originale. E quindi il perché è se qualcuno vuole trovare un qualche cosa di differente senza andare proprio sul posto di provenienza può anche venire da noi, anche in altri punti vendita. Questo è una piccola, diciamo, una piccola... non mi viene la parola... una piccola grotta di tutti questi prodotti... può bastare? Grazie! 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 Grazie!